E' stata posata la prima pietra che dà il via ai lavori di riqualificazione della palazzina Avis in Sant'Orsola, che ospiterà uno spazio ludico motorio per ragazzi con disabilità e non. A promuovere il progetto, nato nel 2015 e che prende il nome di Prama, è la Fondazione AMI di Prato. Questo è un sogno. Io oggi posso dire che i sogni sono fatti di calcina, sono fatti di tubi, sono fatti di fili elettrici. Finalmente ci siamo. Dopo sette anni arriviamo a iniziare i lavori di quello che sarà un centro ludico motorio inclusivo per ragazzi. Nella palazzina di Avis che ha messo a disposizione per realizzare questa sede innovativa per certi versi, perché un centro inclusivo non esiste a Prato, qui dentro faremo anche cose innovative. La palazzina di proprietà di Avis è chiusa dal 2013, diventerà dunque una grande casa dove bambini e ragazzi dai 3 ai 20 anni di età faranno attività insieme, senza barriere e in nome dell'inclusione. A questo scopo nel nuovo centro ci saranno una palestra, uno spazio per l'arrampicata, un'area multisensoriale e uno spazio polivalente con cucina. Per noi è importante perché ridiamo a Prato e ai cittadini questo spazio che verrà dedicato ai bambini, quindi l'impegno è grande ma la soddisfazione è veramente tanta. Pari a circa 1.200.000 euro l'importo dei lavori, che dureranno un anno. Una ristrutturazione resa possibile anche dalla generosità di 500 pratesi, che in questi anni hanno sostenuto il progetto.